Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e all'appuntamento con l'ultimo videoacquisti, nonché il secondo, per il mese di maggio. Dalla settimana prossima, ovvero da questo sabato in realtà, vorrei tornare a fare i videoacquisti settimanali, perché anche a me viene meglio poi per la sistemazione dei volumi, però volevo chiederlo anche a voi cosa ne pensate. Vi fa piacere tornare indietro e fare i videoacquisti settimanali, oppure preferite in questo modo 1-2 al mese? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e ovviamente la maggioranza, come sempre, vince. Prima di iniziare, come sempre, vi chiedo solo la cortesia di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Per voi è un gesto completamente gratuito, per me il supporto più grande che mi possiate dare. Ora invece andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. E come sempre, partiamo dalla casa editrice di cui ho acquistato meno volumi. Si tratta di Dynit, un volume solo, ed è Junket Bank. Lo vediamo qua, acquistato da Mangaiò e quindi con la nostra bustina. Allora, 12,90€ di volume per un formato senza sovracoperta, senza lette, senza niente. È sicuramente il difetto più grosso di questo titolo. Però la storia al suo interno, devo essere sincero, mi è piaciuta abbastanza. Ero molto curioso perché vagamente mi ricordava Kakegurui, uno dei titoli che mi sono piaciuti maggiormente tra quelli che ho letto. E' un pochettino più violento, probabilmente i giochi, le scommesse, quello che viene messo in paglio durante queste scommesse, è un qualcosa che è molto più pesante, molto più crudo rispetto a Kakegurui. E di conseguenza la storia di per sé mi è piaciuta molto. Il problema è che non sappiamo ancora quanti volumi saranno in totale e quindi un pochettino mi spaventa questi 12,90€ in cui il formato, come ho detto, non è sicuramente eccelso. Poi passiamo a Goen con tre volumi acquistati. Abbiamo Lockdown School, il volume numero 9, secondo numero che esce questo mese e sta uscendo anche il 10, nonché l'ultimo a breve, quindi a brevissimo riusciremo a concludere Lockdown School. Non ho cambiato idea rispetto a quello che ho detto con il volume numero 8. La seconda parte non mi sta emozionando più di tanto, devo essere sincero. Vediamo come si conclude. Dopodiché credo che lo metterò in vendita perché non mi dice particolarmente niente in pratica. Un altro titolo di Goen che sta seguendo un pochettino il livello di uscite, Lockdown School, quindi con due o tre uscite al mese, è Prison Experiment. Però qua il discorso è l'esatto opposto. Infatti i primi due numeri erano un pochettino meh. Invece andando avanti sta migliorando. Ci sono degli intrecci di trama che mi stanno piacendo particolarmente. Quindi questo, sempre 10 volumi, sarà la serie completa. Non vedo l'ora di andare avanti e vedere quali pieghe prenderà questa storia, questo racconto. Ultimo titolo per quanto riguarda Casa Goen. Lunatic Circus, Usumaro Furuya, Il Ritorno. Allora ragazzi, che dire, Furuya è un autore che io adoro tantissimo. Non lo troviamo qua però recentemente perché ce l'ho da una vita. Ho letto anche L'Immortale nella Complete Edition suo. Un qualcosa di fantastico e meraviglioso. Per quanto riguarda Lunatic Circus, l'ambientazione forse è leggermente diversa. Non abbiamo più la scuola, non abbiamo più alcuni tratti che forse abbiamo visto in altre opere dello stesso autore. Ma siamo all'interno di un circo con degli acrobati, con due acrobati principalmente, che sognano di raggiungere la vetta, di diventare i migliori di tutto il Giappone se non del mondo. E ci sarà una gara, ci sarà sempre uno scontro tra loro due. La caratterizzazione dei personaggi è sempre fantastica. In ogni opera di quest'autore riesce a mettere sempre un qualcosa di suo che fa elevare i suoi personaggi a un grado altissimo. Detto questo, si deve prendere ragazzi. Almeno una possibilità secondo me va data, nonostante possa sembrare un qualcosa di diverso, un qualcosa di strano, un qualcosa che non attira quello del circo. Ma è Furuya e va preso. Poi, lasciamo la parte Goen, passiamo a Star Comics, iniziamo con una fantastica edizione e una fantastica storia anche, ovvero Kenshin con il suo volume numero 2. Prosegue sempre la storia del nostro samurai vagabondo. Ragazzi è uno spettacolo leggerlo con queste tavole, con questo formato, un qualcosa di veramente meraviglioso, fatevelo dire. e anche qua avremo il nuovo villain di turno, il nuovo cattivo con lui che dovrà cercare di proteggere le persone che ama, le persone che vuole bene, quindi si troverà a dover sguainare nuovamente la spada. Poi proseguiamo con solo leveling il volume numero 7 e dopo un volume 6 che finiva con un colpo di scena, se possiamo dire così, quel colpo di scena proseguirà all'interno di questo volume e mi sta piacendo, questa parte mi sta piacendo abbastanza. Diciamo che vediamo, perché secondo me siamo molto vicini a un qualcosa che potrebbe veramente cambiare il corso dell'opera, quindi vediamo un attimino come va avanti. Poi abbiamo un debutto per quanto riguarda questo mese ed è A Sign of Affection, il volume 1 con cui era legato anche questo tacquino, completamente bianco, se uno vuole prendersi degli appunti lo può fare. Avevo letto il primo numero con il free comic book day che era dato lo spillatino gratuito del primo capitolo e mi ero fatto già delle idee che sono state totalmente confermate con la lettura di tutto il primo numero. E mi dispiace, non andrò avanti con questa storia perché a me sembra un classico shonen, cioè la parte di lei che è sorda, lui si innamora già di lei e tutto quanto non viene comunque implementata da qualcos'altro, cioè sembrerebbe da questo primo numero una classica storia d'amore tra loro due, con lui che magari si può sforzare a cercare di andarle incontro, imparare il linguaggio dei segni e qualcosina di altro, ma poca roba. Quindi non mi ha colpito così tanto come poteva essere A Silent Voice e dopo il primo numero penso che mi fermerò qua. Poi andiamo avanti con Car Captor Sakura, il volume numero 4, continuo a confermare quello che avevo già in mente, tornassi indietro probabilmente guarderei soltanto l'anime e il manga lo lascerei da parte. È una storia perfetta, forse fino ai 14-15 anni, poi basta. Poi andiamo avanti con Detective Conan, il volume numero 100, nella sua Celebration Edition. E il poster è qua sotto, messo là di fianco a tutto il resto di Conan, poi insieme avevamo anche un adesivo e una cartolina. Conan raggiunge i 100 volumi, un traguardo fantastico per questa serie. Vi consiglio Conan, ni. Cioè se avete un po' di soldi da parte, perché comunque sono 100 volumi ragazzi, cioè c'è poco da scherzare a riguardo, e vi piacciono i casi, allora sì. Io tornassi indietro prenderei forse soltanto Detective Conan versus gli uomini in nero, quindi la storia che va avanti e magari qualche numero qua e là per leggere qualche caso. Leggere tanti casi di fila personalmente lo trovo pesante e a volte anche noioso, ve la dico tutta. Infatti Conan lo leggo molto, molto raramente. Ultimo titolo per quanto riguarda Star Comics, un altro bel malloppone che sto leggendo in questo momento e si vede dal segnalibro, Rasputin, il volume numero 2, finalmente è uscito. Una storia di politica, di imbrogli politici con i mass media. La parte che ho già letto all'interno di questo numero vediamo anche quanto i mass media possano influenzare determinate scelte che vengono fatte nel corso di un processo. E non è una cosa da sottovalutare neanche nel mondo odierno. Quindi questi erano invece i titoli per quanto riguarda Star Comics. E ora ragazzi mettiamo da parte anche Star Comics e andiamo avanti a vedere le altre due case editrici. Ed iniziamo con Planet Manga ed iniziamo con la Discovery Edition di Boruto. Costo di un euro. C'è stata nascosta questa copertina fino alla data di uscita. Le Discovery Edition delle serie che seguo, lo sapete benissimo, le prendo. Così come anche quelle delle serie che non seguo perché comunque la Discovery nasce per far conoscere più che altro una serie, per cercare di invogliare i lettori ad iniziare una determinata serie che vuole essere promossa, che vuole essere pubblicizzata più che altro. Poi Planet sta continuando una ristampa. Abbiamo parlato dei primi due volumi nel primo video degli acquisti di maggio. Sto parlando di Sido di Tsutomu Takahashi. È uscito anche il volume numero 3 e continua ad essere una storia veramente pazzesca con i disegni di Takahashi che ragazzi sono un qualcosa di eccezionale. Cioè uno rimane incantato a guardare questi disegni ogni volta che legge uno dei suoi volumi. E i due fratelli ora stanno iniziando a crescere e vediamo se pian piano riusciranno ad intraprendere la via del samurai che è sempre stato il loro sogno fin dalla nascita in pratica. Poi è passato un po' di tempo dall'uscita. Ho già fatto un video recensione a riguardo. Ve lo lascio ovviamente qua sopra con la scheda. È uscito Sakamoto Days in quest'ultimo periodo. È uscito a metà del mese di maggio. Ho acquistato sia la regular e sia la variant con il fantastico grembiule che era dato insieme. Il primo numero mi ha sorpreso positivamente. Non mi aspettavo tantissimo. Vi dico la verità. Mi aspettavo un qualcosa in stile la via del grembiule. e quindi che mi faceva storcere il naso ma tanto, 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 tanto. E invece qualche risata è riuscita a strapparmela e di conseguenza sono stato felicissimo di aver preso questo primo numero e andrò avanti solo con le variant. Questo è stato un caso eccezionale che ho preso entrambe. Da adesso in poi sicuramente prenderò soltanto le variant che usciranno con i vari gadget. Poi andiamo avanti con Seraph of the End, il volume numero 25. E qua iniziamo veramente a vedere quanto può essere forte un legame di amicizia quasi fraterno. Non voglio aggiungere altro per non fare spoiler, però è stato un bel numero. Da questo punto di vista è stato veramente un bel numero e vediamo se riuscirà il nostro protagonista a raggiungere un obiettivo che è già da qualche numero che si era prefissato di raggiungere. Poi proseguiamo con Moriarty the Patriot, il volume numero 16. Ero un pochettino indietro con la lettura. Avevo letto il 15 e il 16, mi sono messo in pari, ho iniziato questo nuovo arco narrativo. Allora, continuo a rimanere della mia idea che se fosse finito il numero 14 non c'era assolutamente nulla da recriminare a riguardo, però non è male. Questi due numeri, sia il 15 che il 16, letti insieme, che ci fanno vedere un'altra faccia del male londinese, mi è piaciuto lo stesso, dai. Vediamo come prosegue, però mi sta piacendo ugualmente. Poi abbiamo una conclusione da parte di Planet, ovvero Aposims, col volume numero 9. Conclusione quasi scontata, possiamo dirlo. Sì, diciamo che la storia è Suto Muniei, quindi anche i disegni, a parte che forse è il manga più bianco che io abbia mai visto, insieme a un altro che vediamo magari dopo, non sono un fan di quest'autore. Dopo aver letto Blame, dopo aver letto anche Aposims, penso che mi arrenderò. Purtroppo, so che adesso mi arriverà una pioggia di insulti, ma non riesco ad affezionarmi al modo in cui scrive e disegna Niei. Amen. Perdonatemi per questa cosa che ho appena detto. Andiamo avanti e abbiamo il secondo numero di Eyeshield 21 e qua più che altro vi devo chiedere come è messo il vostro secondo numero? Ve lo chiedo perché ultimamente si è sparsa la voce che ci siano o delle pagine mancanti o dei capitoli doppi all'interno di questo secondo volume. Planet lavora sempre meravigliosamente e di conseguenza se non l'avete ancora letto, fatelo o comunque almeno cercate di capire in che condizioni è il vostro volume numero 2 di Eyeshield 21. Per quanto riguarda la storia, pian piano si sta formando la squadra e la comicità non manca, senza ombra di dubbio a ogni numero. Vediamo fino a che punto riusciranno a salire di livello questi giocatori e contro quali squadre dovranno mettersi alla prova. Ora, concludiamo con J-pop che è una caterba di volumi qua davanti e abbiamo il mondo secondo Sechan che era l'altro numero bianchissimo che vi dicevo prima. Ci sono infatti alcune tavole che proprio le vediamo qua. Però comunque dai, è fatto molto molto bene. è una storia di una ragazza che diciamo che si prostituisce e è sbagliato. Però comunque le piace, si diverte a fare sesso un pochettino con chiunque e di un ragazzo che invece è molto timido, riservato e proprio il classico bravo ragazzo. L'incontro tra loro due probabilmente darà il via a un qualcosa di nuovo e cambierà radicalmente la vita di entrambi. Bello. Mi è piaciuto molto. Poi abbiamo Mirror Years dagli autori di The Promised Neverland un volume unico che parla di Coco Chanel ma in realtà non è che racconta la vita di questo personaggio. Copertina ragazzi, fantastica, aperta e chiusa parentesi. Delle tavole all'interno che si spostano dal bianco e nero ai colori in una maniera veramente fantastica e ogni colore vi posso garantire che ha il suo perché. questa cura che ci hanno messo all'interno di questo volume mi è piaciuta un sacco e vi stavo dicendo non è la vera storia diciamo di Coco Chanel ma più che altro sono delle storie brevi che vanno a riportarci dei suoi pensieri che vengono poi utilizzati da altre persone. molto emozionante sotto alcuni punti di vista, in alcuni capitoli e bello, 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 bello in tutti i sensi. Poi abbiamo, andiamo avanti con Black Jack, il volume numero 7 e ragazzi tra le opere di Tezuka Black Jack rimane comunque una di quelle che preferisco in assoluto. lui è un genio, un fottuto genio, permettetemi la parola ma quando serve serve e quindi Black Jack per chi ha già una piccola base di Tezuka magari con serie con meno volumi andate secondo me a colpo sicuro. Poi abbiamo due volumi della stessa serie ma semplicemente perché di questa che vi faccio vedere adesso forse sono stato uno degli ultimi a riceverla ovvero la variant di manga io di Aiema Hero, il volume numero 1 lo possiamo vedere qua ed ovviamente, perché nel frattempo siamo andati avanti, il numero 2 della serie regolare. Allora, anche qua ho alcune perplessità. Devo capire se prima o poi diventerà serio questo manga permettetemi il termine perché vedere una città invase da zombie e il nostro protagonista che non si rende conto di quello che sta succedendo vedere la sua ragazza, la sua ex ragazza ormai che lo vuole sbranare quasi c'ha la testa, c'ha la bocca che gli copre la testa e lui non si accorge di quello che sta succedendo non lo so, mi ha lasciato un filino così senza parole però fatemi sapere come proseguirà questa storia per chi l'ha già letto, per chi ha già la vecchia edizione e se prima o poi diventerà anche un filino più seria poi abbiamo uno dei pochi l'unico numero in realtà che non ho ancora letto il diario della speziale, il volume numero 7 e niente, su questo non vi posso dire un granché il diario della speziale è una serie che mi piace sotto alcuni punti di vista però non mi prende così tanto come magari riescono a fare altre serie quindi per questo devo essere dello spirito giusto per avere la voglia di prendere questo titolo e iniziare a leggerlo poi andiamo avanti con Nuvole a nord ovest il volume numero 3 il numero 2 ne abbiamo parlato e straparlato un sacco di volte era praticamente una guida turistica dell'Islanda tutti eravamo in ansia aspettavamo questo numero 3 per vedere che intenzioni avesse l'autore se continuare a descriverci il bellissimo posto che può essere l'Islanda Reiki, Avic e dintorni oppure se riprende realmente la trama che aveva lasciato in sospeso nel numero 1 e tra l'altro una trama stupenda da quello che è stato l'incipit della storia ebbene, fortunatamente in questo numero 3 la trama riprende e riprende alla grande un volume 3 che mi è piaciuto tantissimo che ho letto una pagina tira all'altra in una maniera fantastica e torno a dire Nuvole a nord ovest stra stra consigliato veramente bello ora ragazzi arriveranno tanti dislike in questo momento è perché devo parlare di Tokyo Revengers numero 15 allora, premessa il finale di Tokyo Revengers 15 è stupendo è meraviglioso è bellissimo e tutto quanto la piccola cosa il piccolo neo che ho trovato all'interno di questo numero 5 è loro due loro due sono due personaggi all'interno di questo numero e magari anche successivamente pressoché fondamentali per questa parte di storia ebbene non credo di fare grandi spoiler a dire che uno dei due è un capitano della Toman perché fino adesso non c'erano mai stati presentati non sapevamo praticamente neanche i nomi e tutto ad un tratto li vediamo e diventano fondamentali questa parte non mi ha fatto impazzire mi sarebbe piaciuto magari che quando ci facevano vedere la Toman durante una delle riunioni che c'è stata nei volumi passati ci venissero presentati un briciolo almeno i personaggi con un filo di caratterizzazione appena appena accennata magari e allora magari qua poi uno li ricollegava in una maniera un pochettino migliore invece il fatto che quasi spuntino dal nulla quasi eh ho detto attenzione non lo so mi ha lasciato un pochettino così perché sono veramente veramente importanti all'interno di questo di questo volume 15 poi ditemi voi se sto sbagliando qualcosa se magari mi sono perso io dei pezzi di storia ma non credo poi andiamo avanti con due cofanetti iniziamo da quello più leggero e più soft ovvero Wallman di Boichi tre volumi la serie completa una storia di vendetta principalmente di vendetta con molta azione e come si può vedere dalla copertina numero 2 dov'è anche un po' di ecci messo dentro che non guasta mai o anche dietro la sovracoperta del volume numero 3 è una storia carina i disegni ragazzi che ve lo dico a fare è Boichi quindi non ve li faccio neanche vedere perché altrimenti vi innamorate follemente di questi disegni però una bella storia ultimo titolo da mostrarvi un recupero che avevo ordinato credo ad ottobre dell'anno scorso e finalmente è arrivato un mallopazzo da 10 volumi per 10 euro a volume abbiamo qua il poema del vento e degli alberi ho letto i primi due numeri e mezzo fino ad adesso e i disegni mi piacciono tantissimo tocca delle tematiche pazzesche lo fa in una maniera meravigliosa veramente e quindi da questo punto di vista è una storia che merita tantissimo mi mancano ancora tanti volumi da leggere può secondo me può solo migliorare andando avanti perché inizieremo a conoscere sempre di più i personaggi e conoscendo sempre di più i personaggi ci affezioneremo a loro e di conseguenza ci piacerà sempre di più ragazzi che dire abbiamo fatto una faticaccia ma abbiamo concluso questo video spero che vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere cosa avete acquistato voi nel corso di queste ultime due settimane io vi ringrazio di cuore per la visione e ricordandovi molto velocemente di lasciare un like e di iscrivervi al canale vi rimando al prossimo video ciao a tutti